oggi. Come sempre ci siamo presi un pochino di tempo per permettere a tutti di accedere al webinar. Volevo innanzitutto ringraziare i partecipanti e i relatori per il webinar di oggi. Come sempre mi prendo un minuto per poter condividere le slide. Ecco qui. Oggi siamo praticamente alla nona lezione. Oggi parliamo di attuazione del PNRR in Italia e anche di sviluppo sostenibile e quindi il video introduttivo era appunto destinato a quello. Mi fa piacere che vi state collegando da tutte le regioni d'Italia perché l'intento delle nostre lezioni d'Europa è non solo di informarvi su quelli che possono essere temi diciamo più caldi di cui si discute a livello europeo ma anche proprio quello di creare una comunità tra le persone comunità che poi diciamo discute in qualche modo si confronta su quelli che sono i temi prioritari. Vi ricordo che l'edizione 2022 ha previsto l'organizzazione di 15 webinar ormai che sono in pieno svolgimento. Siamo quasi a più della metà. Il ciclo si concluderà il 23 giugno 2022. Abbiamo nella prima parte abbiamo affrontato più diciamo alcuni temi legati alla storia dell'Unione Europea ma più che altro come i paesi che sono al di fuori dell'Unione Europea percepiscono l'Unione Europea. Poi abbiamo parlato nella puntata precedente di Green Deal europeo di Next Generation New. Oggi è la volta del PNRR così come viene attuato in Italia e i prossimi temi sono il mercato digitale. Parleremo di intelligenza anche anche di intelligenza artificiale e di fake news. Per finire poi con due puntate su quelle che sono le fonti di informazione dell'Unione Europea e i relativi finanziamenti. Devo dirvi soltanto un'informazione. Per quanto riguarda la puntata relativa al mercato digitale ci sarà uno spostamento di orario o meglio verrà anticipato. Tutte le lezioni d'Europa durano dalle 10 alle 11 e mezza. La puntata relativa al mercato digitale per un problema di disponibilità di aula verrà anticipata alle ore 9 e mezza. Ma poi per coloro che si sono già iscritti riceveranno una comunicazione in tal senso. Vi ricordiamo che tutti i cittadini che sono interessati ai temi a questi temi possono partecipare a questo ciclo di webinar. È chiaramente possibile partecipare anche alle singole iniziative oppure partecipare all'intero ciclo. Però per poter partecipare all'intero ciclo vi dovete registrare ad ogni singolo evento. Vi ricordo alcune informazioni relative all'attestato di iscrizione. Questo vi viene inviato circa una settimana dopo l'evento, dopo che viene fatta una verifica da parte dello staff. Dopodiché riceverete una mail e quindi dovrete compilare il questionario di valutazione e soltanto dopo aver compilato il questionario di valutazione potete poi scaricare l'attestato. In quali casi non viene inviato l'attestato di iscrizione? Se per esempio non vi siete registrati e chiedete l'accesso stesso alla mattina del webinar oppure se entrate registrandovi con numeri o nomi di fantasia oppure se avete utilizzato una mail differente da quella che avete utilizzato nella fase di registrazione e per poter ricevere l'attestato dovete affruire di almeno della metà delle ore di durata del webinar. Quindi vi dicevo noi siamo alla lezione numero 9 che parla di PNRR. Vi ricordo la lezione successiva del 12 maggio dove parleremo di Unione Europea e di tutela della salute. Questa sarà una delle lezioni come vi avevo anticipato tempo fa che sarà fatto in collaborazione con la direzione generale Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea dove ci sarà un funzionario del Centro Comune di Ricerca che ci illustrerà il piano europeo di lotta contro il cancro. Per quanto riguarda la lezione di oggi sarà introdotta dal professor Montini che è anche il coordinatore scientifico del Centro Europe Direct dell'Università di Siena che vi ricordiamo è l'ideatore di questo format lezione di Europa anche se poi ora il format viene realizzato in collaborazione con altri centri di Europe Direct e quindi con il Centro Europe Direct Roma Innovazione operativo presso il Forma XPA, il Centro Europe Direct del Consorzio Universitario di Trapani Sicilia e il Centro Europe Direct Roma 3. Avremo oggi come relatori il dottor Di Marco, il dottor Palombino che però relativamente all'intervento del dottor Palombino manderemo in rete una registrazione. in realtà il dottor Palombino è collegato con noi però siccome è in viaggio temevamo che ci potesse essere un calo diciamo nel collegamento wifi e quindi abbiamo preferito registrare il suo intervento però sarà presente quindi potrà poi alle fine rispondere eh alle vostre domande. Eh andiamo avanti vi ricordo alcune focus web di informazione sul PNRR innanzitutto quello ufficiale Italia Domani dove potete trovare sia tutti i bandi ma anche tutte le giornate informative che vengono organizzate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per informare a livello regionale sulle opportunità offerte dal PNRR. In più vi ricordiamo il focus eh di Linea Mica dove sono disponibili dieci guide sul PNRR realizzate eh appunto dal Formez nell'ambito del progetto eh di Linea Mica e e chiaramente in collaborazione con il Ministro eh della per la pubblica amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica. Sono dieci guide di scritte in maniera molto chiara per i cittadini per illustrare un po' quali sono gli obiettivi e le finalità del PNRR. Eh vi ricordiamo come sempre il nostro focus Europa europa.formez.it dove potete trovare eh le ultime notizie ma anche dove è disponibile la nostra newsletter. Eh se volete ricevere le informazioni relative alle attività che noi organizziamo vi consigliamo di iscrivervi alla nostra newsletter nel box che vedete evidenziato nel nella colonna di sinistra e in questo iscrivendovi eh alla nostra newsletter in realtà finite in una nostra mailing list che possiamo utilizzare per inviarvi gli inviti alle nostre eh attività. Tenete presente che oltre le lezioni d'Europa prevediamo ancora varie attività fino a fine anno quindi se volete essere aggiornati vi eh consigliamo di iscrivervi alla newsletter. Eh se avete domande potete contattare tutti gli Europe Direct che sono partner di questa iniziativa oppure inviarci una mail a europe direct chiocciolaformez.it. Eh ora eh in realtà lascio la parola al professor Montini no chiedo scusa ehm ora vi mandiamo in linea un'altra eh un altro video che un pochino diciamo spiega in breve che cos'è il PNRR per lasciare poi la parola al professor Massimiliano eh Montini che introdurrà eh la lezione. Eh Ludovico se cortesemente mh condividi il video. ... ... Grazie a tutti. 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 Con il mio lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.